In Africa avevo una fattoria, ai piedi degli altipiani del Gong. A un 150 chilometri più a nord, su quegli altipiani, passava l'equatore. Eravamo a 1800 metri sul livello del mare. Di giorno si sentiva di essere in alto, vicino al sole, ma i mattini, come la sera, erano limpidi e calmi e di notte faceva freddo. La posizione geografica e l'altezza contribuivano a creare un paesaggio unico al mondo. Nulla che fosse grasso e lussureggiante, era un'Africa distillata, lungo tutti i suoi 1800 metri di altitudine, quasi l'essenza forte e raffinata di un continente. I colori, asciutti ed arsi, parevano colori di terracotta. Gli alberi avevano un fogliame delicato e leggero, di una struttura diversa da quelli d'Europa. Non si curvava in archi e cupole, ma si tendeva in strati orizzontali, il che dava agli alberi, alti e solitari, l'aspetto un po' delle palme, o un piglio eroico e romantico, di navi tutte attrezzate e pronte a partire, ma con le vele non ancora spiegate. E al margine dei boschi un'apparenza strana, come se l'intero bosco vibrasse leggermente. Nelle grandi pianure crescevano, sparsi, i vecchi spinetti nudi e torti. L'erba aveva l'odore pungente del timo e del mirto delle paludi. In certi punti il profumo era così forte da far dolere le narici. Tutti i fiori che sbocciavano sui prati o fra i rampicanti e le liane della foresta erano piccolini come quelli dei bassopiani. Soltanto all'inizio delle grandi piogge spuntavano gigli monumentali dal profumo pesante. Il respiro del panorama era immenso. Ogni cosa dava un senso di grandezza, di libertà, di nobiltà suprema. Il tratto più caratteristico del paesaggio e della vita lassù era l'aria. Ricordando un periodo passato sugli altipiani d'Africa, si ha la sensazione sconcertante di essere vissuti nell'aria. Il cielo era di solito celeste pallido o violetto, solcato da nubi maestose, senza peso, in continuo mutamento, erte come torri. Ma aveva in sé un tale vigore d'azzurro da colorare anche i boschi e le colline accanto di una tinta fresca e profonda. Nel pieno del giorno, l'aria in alto, era viva come una fiamma. Scintillava, ondeggiava e splendeva come acqua che scorre, specchiando e raddoppiando tutti gli oggetti, creando grandi miraggi. Lassù si respirava bene, si sorbiva coraggio di vita e leggerezza di cuore. Ci si svegliava la mattina sugli altopiani e si pensava, eccomi qui, è questo il mio posto. Il massiccio del Gong, proteso in una lunga cresta da nord a sud, è coronato da quattro vette piene di nobiltà, come onde immobili, di un azzurro più fondo, contro il cielo. Sale a 2400 metri dal mare e a 600 dalla campagna circostante, ma ad ovest è più ripido e più scosceso e le rocce cadono a picco verso la valle del Gran Rift. Il vento soffia incessante da nord, nord-est. È lo stesso vento che sulla costa araba e africana chiamano il Monsone, il vento di Levante che era il cavallo favorito di Re Salomone. Qui sugli altipiani pare soltanto una resistenza dell'aria di fronte allo slancio con cui la terra si scaglia nello spazio. Picchia dritto contro il Gong. Il versante delle colline sarebbe il posto ideale per lanciare gli alianti, le correnti li solleverebbero sopra le cime. Le nuvole, in viaggio con il vento, urtavano contro la parete restando sospese là intorno o incagliandosi sulla vetta e rompendo in pioggia, ma quelle più alte, che veleggiavano al di sopra del massiccio, si dissolvevano ad ovest, sul deserto infiammato della valle del Rift. Tante volte da casa mia guardavo quelle maestose processioni avanzare. Vedevo quasi con stupore le loro orgogliose masse fluttuanti, appena superate le colline, sciogliersi nell'azzurro e sparire. Dalla fattoria le colline cambiavano molte volte durante il giorno. A tratti sembravano vicine, a tratti lontanissime. La sera, quando imbruniva, da principio sembrava che un sottile filo d'argento orlasse tutto il contorno della montagna scura. Poi, col calare della notte, le quattro vette divenivano più piatte e smussate, come se la montagna si dispiegasse e si allargasse. Intorno a noi s'apriva un paesaggio unico. A sud, fino al Kilimanjaro, le vaste pianure della grande zona di caccia. A ovest e a nord, la falda delle colline che parevano un parco, con dietro le foreste. Più in là, fino al monte Kenya, la terra tutta ondulata della riserva Kikuyu, lunga più di 150 chilometri. Un mosaico di piccoli campi di mais, quadrati, boschetti di banani e terre da pascolo, con qua e là il fumo azzurrino di un villaggio indigeno, tutto cucuzzoli, come un grappolo di tane da talpa. Verso ovest, invece, si estendeva il paesaggio arido, lunare, della bassa africana. Il deserto brunastro è punteggiato qua e là, senza regole, dalle piccole chiazze degli spineti. Fumi serpeggianti si compongono in disegno con sentieri verde cupo, tutti torti. Sono i boschi di acacia, dagli alberi vigorosi, coi larghi ombrelli e le spine come spade. Qui cresce il cactus e qui sono di casa la giraffa e il rinoceronte. Anche sulle colline, quando ci si arriva, il paesaggio è paurosamente grande, pittoresco e misterioso, sempre diverso, con le lunghe vallate, gli sterpeti, i pendii verdeggianti, i burroni fra le rocce. In alto, sotto una delle vette, si trova persino un boschetto di bambù. Ci sono sorgenti e pozze, io mi ci accampavo vicino. Al tempo mio, sugli altipiani, vivevano il bufalo, l'antilope e il rinoceronte. Quelli molto vecchi fra gli indigeni si ricordano di quando c'erano ancora gli elefanti. Peccato, pensavo sempre, che il gong fosse riserva di caccia solo per un piccolo tratto, fino alla punta della collina più a sud. Quando la colonia si fosse arricchita e Nairobi, la capitale, fosse diventata una grande città, gli altipiani sarebbero stati un parco di caccia incomparabile. Ma nei miei ultimi anni in Africa, molti giovani bottegai di Nairobi, la domenica, invadevano la collina con le loro motociclette, sparando a tutto quello che vedevano. Probabilmente gli animali da caccia grossa cominciarono allora a disertare gli altipiani, spingendosi al di là degli spineti e della distesa sassosa più a sud. Sui versanti e persino sulle cime delle colline si camminava facilmente. L'erba era bassa come in un prato e qua e là, fra le zolle, sbucava la pietra grigia. Lungo la cresta, su e giù per le cime, correva, come un poco ripido trenino a cremagliera, uno stretto sentiero di caccia. Una mattina, che ero accampata all'aperto, arrivai fin lassù. Sul sentiero trovai tracce fresche e sterco di un branco di antilopi. I grandi, pacifici animali in lunga fila dovevano essersi spinti all'alba fin sulla cima, pareva, solo per contemplare la terra che si estendeva in basso, ai piedi delle colline. Alla fattoria coltivavamo caffè. Eravamo un po' troppo in alto per il caffè e si faticava sodo. Non siamo mai stati ricchi. Ma una piantagione di caffè, quando si impadronisce di noi, non ci lascia più. Rimane sempre qualcosa da fare. Si è sempre inarretrato col lavoro. In quel paesaggio selvatico irregolare, un pezzo di terra divisa e coltivata come si deve, faceva un bel effetto. Più tardi, quando andai in aeroplano e imparai a riconoscere la fattoria dall'alto, la piantagione, di un verde vivido in mezzo al verde grigio della collina, mi parve bellissima. Capii quanto sia forte nell'uomo il bisogno di forme geometriche. Tutti intorno a Nairobi e specialmente a nord, la campagna è divisa allo stesso modo. La gente là non pensa ad altro, non parla d'altro che della semina, della potatura e della raccolta del caffè. La notte, a letto, continua a chiedersi se e come può migliorare la piantagione. Coltivare il caffè è un lavoro lungo, ben diverso da come si immagina quando giovani noi stessi e pieni di speranze si portano dai vivai, sotto la pioggia dirotta, le cassette con i giovani germogli lucenti, o quando si esce nei campi con tutta la gente della fattoria, per sorvegliare come sistemano le piante una accanto all'altra, nella terra molle che le farà crescere, e come le circondano di fitti sipari e di rami strappati agli arbusti per proteggerle dal sole, perché il privilegio di tutte le cose giovani è l'oscurità. Ci vogliono 4 o 5 anni prima che rendano, e nel frattempo si è dovuto lottare con la siccità, con le malattie, con le erbacce che invadono i campi, fitte e sfrontate, il camedrio, dai pericarpi lunghi e scabri che si attaccano i vestiti alle calze. Qualche germogli è stato piantato male, coi fittoni piegati, e muore proprio quando comincia la fioritura. Se ne piantano poco più di 600 ogni mezzo ettaro, e io avevo una piantagione di 300 ettari. Fra i filari, per parecchie miglia, i buoi portavano la mia gente su pericampi pazientemente, aspettando il premio della loro fatica. La piantagione è bellissima in certe stagioni. Quando le piante fiorivano, al principio delle piogge, era uno spettacolo stupendo, come una nuvola di gesso nella nebbiolina fine, per più di 300 ettari. Il fiore di caffè ha un aroma delicato e leggermente amaro, come quello dei fiori di biancospino. Quando le bacche mature facevano rosseggiare i campi, anche le donne e i bambini, i totos, come li chiamavano, venivano a fare la raccolta insieme con gli uomini. Alla fine portavano il caffè allo stabilimento vicino al fiume, con i carri e le carriole. I nostri macchinari non potevano dirsi perfetti, ma eravamo stati noi stessi a progettare e costruire lo stabilimento, e ne andavamo orgogliosi. Una volta un incendio lo distrusse completamente, e fummo costretti a ricostruirlo tutto da capo. Il grande essiccatore girava e girava, rotolando nel suo ventre di ferro il caffè, con un frastuono di ciottoli battuti dalle onde sulla riva. A volte il caffè era asciutto e pronto per essere levato dall'essiccatore nel cuore della notte. Che momento pittoresco, con tutte le lampade antivento nell'enorme stanzone buio dalle pareti piene di ragnatele e di loppe. I visi ansiosi dei negri luccicavano alla luce intorno all'essiccatore. Lo stabilimento pareva appeso alla notte africana come una gemma all'orecchio di un etiope. Più tardi il caffè veniva sgranato, classificato e scelto a mano, poi messo in sacchi cuciti con un ago da sellaio. Finalmente, prima dell'alba, mentre ero ancora a letto, sentivo i grandi carri carichi di sacchi, dodici per ogni tonnellata, tirati da otto paia di buoi, mettersi in cammino su per la lunga, buia salita della collina che portava alla stazione di Nairobi, fra grandi grida e rumore di sonagli e i conducenti che seguivano le bestie correndo. Per fortuna dovevano fare solo quella salita. La fattoria si trovava a 300 metri sopra Nairobi. La sera andavo incontro al corteo di ritorno. I buoi stanchi, guidati da un piccolo toto, avevano la testa penzoloni, gli uomini strascicavano le fruste nella polvere. Il nostro compito era finito. Entro un giorno o due il caffè sarebbe stato caricato su una nave. Non ci restava che sperare di venderlo a buon prezzo, nelle grandi aste di Londra. Avevo 3000 ettari di cui la piantagione occupava solo una piccola parte. Il resto era bosco, tranne 500 ettari riservati alle shambas degli squatters. Gli squatters sono indigeni che vivono sulla terra di un colono bianco, coltivandone qualche ettaro per proprio conto. In cambio lavorano per il padrone un certo numero di giorni ogni anno. I miei squatters, probabilmente, vedevano il rapporto in una luce completamente diversa. Là erano nati, là spesso erano nati anche i loro genitori, e avevano tutta l'aria di considerarmi una specie di squatter di marca superiore, un ospite dei loro possessi. Le shambas erano le parti più vive della fattoria. Cambiavano col cambiare delle stagioni. Il mais era più alto delle nostre teste, quando si camminava nei sentieri stretti e induriti da tutti i passi, fra gli alti reggimenti fruscianti. Poi quando le pannocchie erano mature, le donne facevano il raccolto e la battitura. Lope e i steli venivano bruciati. Per tutta la fattoria allora si vedevano innalzarsi sottili colonne di fumo. I chicuyo coltivavano anche le patate dolci, dalle foglie un po' simili a quelle della vite, tutte intrecciate in una specie di tappeto fitto e zucche di vari tipi, grosse, gialle e picchiettate di verde. A entrarne le shambas spesso la prima cosa che cadeva sott'occhio era il di dietro di qualche vecchietta, tutta china a lavorare la terra come uno struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia. Ogni famiglia chicuyo aveva un gruppetto di capanne tonde, a punta, e di piccole capanne dispense. Alcune servivano da ripostigli. Lo spazio là in mezzo era vivo, la terra dura come cemento. Ci macinavano il mais e ci mungevano le capre, fra un gran razzolare di bambini e di polli. Spesso, nell'azzurro del crepuscolo, andavo a caccia di pernici nei loro campi di patate dolci. Sugli alberi dai lunghi rami frangiati, ultimi superstiti della foresta che un tempo copriva tutta la fattoria, i coloni lanciavano il loro sonoro richiamo. Avevo anche circa mille ettari di terra da pascolo, dove l'erba alta ondeggiava e si curvava sotto il vento come il mare. I pastorelli chicuyo vi conducevano a pascolare le mucche. Nella stagione fredda si portavano dalla capanna un po' di braccia ardente in certi cestelli di vimini per scaldarsi. A volte provocavano grossi incendi, disastrosi per l'allevamento del bestiame. Gli anni della siccità, anche le zebre e le antilopi scendevano fino ai nostri pascoli. La nostra città era Nairobi, a una ventina di chilometri, sulla pianura in mezzo alle colline. Là si trovavano il palazzo del governatore e la sede centrale delle grosse ditte. Di là veniva governato il paese. Non esiste vita per noi senza una città. Anche se ne pensiamo più male che bene attira per forza i nostri pensieri per una specie di legge di gravità. L'alone luminoso, che da certi punti della fattoria si vedeva sovrastare Nairobi la notte, mi ricordava le grandi città d'Europa facendomi fantasticare. Quando arrivai per la prima volta in Africa non c'erano automobili. A Nairobi ci si doveva andare a cavallo, oppure su un carro tirato da sei muli che si lasciavano poi nelle stalle della società dei trasporti per gli altipiani. Nairobi allora era una città eterogenea, con qualche bel palazzo nuovo, in muratura, interi quartieri di bungalow, uffici e vecchie botteghe costruite con pezzi di lamiera ondulata, fra i filari di alberi di eucaliptus, nelle strade nude e piene di polvere. Gli uffici della corte di giustizia, il dipartimento degli affari indigeni e la clinica veterinaria erano talmente sgangherati che provava un gran rispetto per i funzionari governativi capaci di far qualcosa, sia pur pochissimo, nei bugigattoli neri e infocati dove si trovavano costretti a lavorare. Ma bene o male, Nairobi era sempre una città dove si poteva fare delle compere, sapere qualcosa di quello che succedeva nel mondo, pranzare all'albergo o andare a ballare al club. Una città piena di vita, in continuo movimento come acqua che scorre, un luogo che stava crescendo come le cose giovani, che di anno in anno e persino al ritorno da un safari si trovava cambiato. Costruirono una nuova sede del governo, un edificio solenne e fresco, con una bella sala da ballo e dei bei giardini. Misero su grandi alberghi, imponenti esposizioni agricole e belle mostre di fiori, mentre noi altri, del cosiddetto mondo elegante, aggiungevamo di nostro alla vita della città qualche movimentata scenetta da melodrama. Cerca di approfittare più che puoi di me e del suo tempo. Ecco il motto di Nairobi. Wir kommen ni wieder so jung, così indisciplinati e rapaci, zusammen. In genere, io e Nairobi ci intendevamo abbastanza bene. Una volta, passandoci con la macchina, pensai che il mondo non sarebbe esistito senza le sue strade. Il quartiere indigene e quello degli immigrati di colore erano molto estesi rispetto alla città europea. La città Suaeli, sulla strada del club Mutahiga, aveva una pessima fama in tutti i sensi, ma era un posto vivo, sporco e pieno di allegria, dove a qualsiasi ora del giorno e della notte succedevano un sacco di cose. Le case erano fatte per la maggior parte di vecchie latte di paraffina, appiattite a furia di martellate e arrivate a vari stadi di ruggine, come rocce corallifere o strutture fossili. Lo spirito della civiltà avanzata ne stava svaporando giorno per giorno. La città somala era più distante ed appartata, forse a causa della segregazione delle donne. Alcune belle ragazze somale, di pessima reputazione, vennero a vivere al bazar dando parecchio filo da torcere alla polizia di Nairobi. Erano intelligenti e affascinanti, delle vere sirene. Ma le donne per bene non si facevano vedere. Esposto a tutti i venti, senza un filo d'ombra, polveroso, il quartiere ricordava forse ai somali il deserto dove erano nati. Gli europei, abituati a vivere nello stesso posto per anni, a volte per generazioni, non potevano capire la completa indifferenza delle razze nomadi per il luogo dove dovevano piantare le tende. Pareva che le case, sparse qua e là senza regola sulla nuda terra, fossero state messe su a furia di chiodi lunghi dieci centimetri e non potessero durare più di una settimana. Si restava sorpresi entrando di trovarle così pulite e linde, profumate di incensi arabi, piene di bei tappeti e di drappi, vasi di ottone e d'argento, spade con impugnature d'avorio e nobili lame. Anche le donne erano riservate, gentili, gaie ed ospitali, con le loro risate argentine. Al villaggio mi consideravano di casa, grazie al mio servo somalo Farahaden che stette con me in Africa dal primo giorno fino all'ultimo e andammo spesso alle loro feste. I grandi matrimoni somali sono feste stupende, degne di un'alta tradizione. Come ospite d'onore potevo entrare nella camera nuziale, con letto e le pareti coperte di drappi e ricami dallo splendore delicato. Là in mezzo, dritta e rigida come la mazza di un cerimoniere, stava la sposa dagli occhi neri, adorna di sete pesanti, oro e ambra. Mercanti e trafficanti di bestiame, i somali percorrevano in lungo e in largo il paese coi loro asinelli grigi, carichi di merce. A volte, al villaggio, ho visto anche i cammelli, superbi figli del deserto, resi dal deserto duri e incuranti del dolore terrestre, come i cactus e come i somali. I somali si mettono sempre nei guai per le liti terribili fra tribù e tribù. In queste cose ragionano e sentono in modo diverso dagli altri. Farah apparteneva alla tribù di Abre Yunis e quindi automaticamente io avrei dovuto parteggiare per Abre Yunis. Una volta nella città somala scoppiò una vera battaglia fra le due tribù di Dulba Antis e Abre Kaolo, con fucilate, incendi e una decina di morti. Per farli smettere dovete intervenire il governo. Farah in quel periodo aveva un amico, Said, un ragazzo della sua tribù che veniva sempre a trovarlo alla fattoria. Era un ragazzo delizioso e fu un dolore per me quando seppi dai miei servi che mentre stava prendendo il tè da una famiglia Abre Kaolo, uno della tribù d'Ulba Antis, in un momento d'ira, aveva sparato due fucilate a caso contro la finestra, spezzandogli una gamba. Dissi a Farah che mi dispiaceva molto. «Cosa? Said?» esclamò Farah con veemenza. «Si meritava di peggio. Perché è andato a prendere il tè in casa di un Abre Kaolo?» Gli indiani, a Nairobi, dominavano il grande quartiere commerciale del bazar. I mercanti più ricchi avevano le loro ville proprio fuori la città. Yevanieh, Suleiman e Virieh, Allidina Visram. Amavano adornarle di scalinate di murature, di balaustre e di vasi rozzi fatti con la pietra morbida del luogo. Parevano le costruzioni di mattonelline rosa che fanno i bambini. Spesso offrivano il tè in giardino, con i pasticcini, nello stile della villa. Intelligenti, educatissimi, avevano molto viaggiato. Il commercio era per loro quasi una seconda natura, al punto che non si sapeva mai se si aveva di fronte un individuo umano o il simbolo della loro ditta. Una volta, sui magazzini di Suleiman Virieh, vidi la bandiera a mezz'asta. Conoscevo il proprietario, ero stata anche a casa sua. Suleiman Virieh è morto? Chiesi a Farah. Mezzo? Rispose Farah. Mettono la bandiera a mezz'asta quando uno è mezzo morto? Domandai. È morto Suleiman? Disse. Virieh è vivo. Prima di cominciare ad occuparmi della piantagione, ero appassionata della caccia e avevo partecipato a molti safari, ma quando presi in mano la fattoria misi via i fucili. Vicino a noi, dall'altra parte del fiume, stavano i masai, nomadi e allevatori di bestiame. Ogni tanto venivano da me a lamentarsi perché un leone aveva ucciso una mucca e volevano che lo ammazzassi, cosa che facevo quando mi riusciva. A volte, il sabato, per procurare un bel arrosso a tutti quanti, andavo anche a caccia di zebre sulle pianure dell'Orungi, con un lungo corteo di giovani kikuyu baldanzosi ed ottimisti. Nella fattoria uccidevo quegli uccelli saporiti che sono le pernici e le faraone, ma per molti anni non mi allontanai più per partecipare ad una spedizione. Spesso, però, parlavamo dei vecchi safari alla fattoria. I luoghi dove ci siamo accampati restano vivi nella memoria, come se ci fossimo vissuti per tanto tempo. Un solco lasciato in mezzo all'erba della pianura, dalle ruote del carro spicca chiaro nel ricordo, come i lineamenti del viso di un amico. Una volta durante un safari avevo visto un branco di bufali, ben 129, sbucare dalla nebbia del mattino, sotto un cielo di rame ad uno ad uno. Pareva che i bruni, massicci animali come di ferro, con le potenti corna ricurvi ai lati, non fossero in viaggio, ma venissero creati là, sotto i nostri occhi, i mandati a spasso per il mondo appena finiti. Avevo visto una mandria di elefanti, nella fitta foresta indigena, dove la luce si spargeva in bicchiettature e chiazze fra i folti rampicanti, avanzare a passi lenti e misurati, come avessero avuto un appuntamento alla fine del mondo. Pareva il bordo di un immenso tappeto persiano, antichissimo e infinitamente prezioso, dove si intrecciavano il giallo, il verde e il bruno scuro. Tante volte avevo assistito al passaggio delle giraffe, nella loro strana inimitabile grazia vegetale, che non parevano un greggio di animali, ma una famiglia di fiori rari, dal lungo stelo, giganteschi e picchiettati. Avevo seguito due rinoceronti nella loro passeggiata mattutina, quando, annusando e sbuffando nell'aria dell'alba, fredda da far dolere le narici, parevano due grandi pietre angolari che scherzavano e si godevano la vita nella lunga valle. Avevo visto il leone reale, quando il sole non era ancora sorto e la luna stava declinando. Tornare a casa dopo l'ecidio attraverso la pianura grigia, lasciando nell'argento dell'erba una scia scura, il muso ancora rosso fino alle orecchie, o durante la siesta del meriggio, quando si riposava pacificamente in mezzo alla sua famiglia, sull'erba bassa, all'ombra delicata e primaverile delle grandi acace, nel suo giardino d'Africa. Era bello rievocare tutto questo quando le giornate erano monotone, da noi, e gli animali da caccia grossa erano ancora là, nel loro regno. Se volevo, potevo tornare a vederli. La loro vicinanza dava alla fattoria un senso di giocosità e di luce. Farà, che con il tempo finì per appassionarsi alle faccende della fattoria, non sognava che il momento di ripartire, e come lui lo sognavano tutti quelli che avevano partecipato alle spedizioni. In mezzo alla natura selvaggia avevo imparato a guardarmi dai movimenti bruschi. Le creature che si incontrano là sono ombrose e guardinghe, sanno cogliere di sorpresa, sfuggire quando meno ci si aspetta. Un animale domestico sarebbe incapace di stare quieto come un animale selvaggio. Gli uomini civilizzati non sanno più cos'è la vera calma e devono prendere lezioni di silenzio dal mondo selvaggio, prima che quel mondo li accetti. L'arte di muoversi con delicatezza, senza scatti improvvisi, è la prima arte del cacciatore, soprattutto del cacciatore con la macchina fotografica. Chi sta cacciando non può fare a modo suo, deve vivere col vento, coi colori, con gli odori del paesaggio, adattarsi al ritmo dell'insieme che spesso lo costringe a ripetere più volte lo stesso gesto. Quando si riesce a cogliere il ritmo dell'Africa ci si accorge che è identico in tutta la sua musica. Quello che avevo imparato andando a caccia mi servì poi nei miei rapporti con gli indigeni. Amare la donna e la femminilità è proprio del maschio, come amare l'uomo e la è proprio della donna. Allo stesso modo la gente del nord è attratta dai paesi e dalle razze del sud. I normanni si innamorarono dei paesi stranieri, della Francia prima e dell'Inghilterra poi. Quei vecchi lord descritti nella storia e nei romanzi del XVIII secolo, sempre in viaggio per l'Italia, la Grecia e la Spagna, non avevano nulla di meridionale nella loro natura. Era il fascino di cose completamente diverse da loro, che li attraeva e li faceva restare. Arrivati per la prima volta a Roma e a Firenze, gli antichi pittori e filosofi e poeti tedeschi e scandinavi si inginocchiarono per adorare il sud. Una strana e illogica pazienza verso un mondo estraneo nacque in quella gente impaziente. Come è quasi impossibile che una donna sia irritante per un vero uomo e come, per una donna, un uomo non è mai del tutto disprezzabile o da buttar via finché rimane un uomo. Così la gente del nord, dai capelli rossi e dal carattere impetuoso, ebbe una pazienza infinita con i paesi e le razze dei tropici. Dal loro paese e dalla loro gente non tolleravano nessuna bizzarria, ma accettavano con umiltà e rassegnazione la siccità degli altipiani africani, le insolazioni, la peste dei bovini e l'inettitudine dei servi indigeni. Intuivano che nel contatto con una razza completamente diversa c'era una possibilità di comunione assoluta, quasi di identità, e il loro individualismo spariva. I popoli dell'Europa meridionale e quelli di sangue misto non capiscono questa possibilità. La criticano o ne ridono proprio come gli uomini poco maschili ridono dei sospiri dell'innamorato, e le donne razionali e poco pazienti con i loro uomini si indignano contro Griselda. Quanto a me, sin dalle prime settimane passate in Africa, provai un grande amore per gli indigeni. Era un sentimento che abbracciava tutti, vecchi e giovani, uomini e donne. La scoperta delle razze di colore allargò enormemente il mio mondo. Come chi ama istintivamente gli animali, ma vive in un posto, dove non ce ne sono e solo tardi nella vita viene in contatto con essi. O chi per natura ama i boschi e le foreste, ma entra per la prima volta in una foresta a vent'anni. O chi è nato per capire la musica e la sente per la prima volta solo quando è già adulto. Così è stato un po' per me. Quando conobbi gli indigeni, tutta la mia vita si adattò all'armonia dell'orchestra. Mio padre, ufficiale nell'esercito danese e in quello francese, una volta, giovanissimo luogotenente a Dupel, scrisse ai suoi. Tornato a Dupel, ho avuto il comando di una lunga colonna. Lavoravo sodo, ma era splendido. L'amore della guerra è una passione come un'altra. Si amano i soldati come si amano le belle ragazze fino alla pazzia. E un amore non esclude l'altro, come le ragazze ben sanno. Ma di donne se ne ama solo una per volta, mentre i soldati si amano tutti insieme e si vorrebbe che fossero ancora di più, se possibile. Ecco ciò che provavo io per gli indigeni. Non era facile arrivare a conoscerli. Inafferrabili, notavano ogni minima sfumatura. Se qualcosa li impauriva, arretravano in un modo proprio soltanto a loro. In un lampo, come gli animali selvaggi che al primo movimento brusco spariscono, non si vedono più. Difficilmente si riesce ad ottenere una risposta diretta da un indigeno, se non lo si conosce veramente. Se provavo a chiedere a qualcuno quante mucche avesse, rispondeva evasivamente. Quante ti ho detto ieri? Per la sensibilità di un europeo una risposta simile è irritante, come è irritante per la sensibilità di un indigeno sentirsi fare una domanda così. Se si insiste troppo, o si pretende per forza una spiegazione del suo modo di fare, si ritira ancor più in se stesso, celandosi dietro una sua fantasia comica e grottesca con cui cerca di far perdere le sue tracce. Anche i bambini piccoli, allora, sembravano vecchi giocatori di poker che bleffino sempre pur di non rivelare le loro carte. Se si cerca di rompere il loro guscio, fanno come le formiche, quando si infila uno stecco nel formicaio. Si affrettano energicamente a rimettere tutto a posto, in silenzio, come per cancellare un atto sconveniente. Non sapevamo, ne potevamo immaginare, a quali pericoli temessero di andare incontro per colpa nostra. Io per me credo avessero paura di noi più come si ha paura di un gran fracasso improvviso che della sofferenza e della morte. Ma era difficile dirlo, perché gli indigeni sono dei simulatori eccezionali. A volte, quando si andava a cavallo nelle shambas la mattina presto, una pernice ci veniva a stramazzare davanti. Si sarebbe detto che avesse un'ala spezzata e temesse di venire acchiappata dai cani. Ma in realtà l'ala non era spezzata affatto e la pernice non aveva nessuna paura dei cani. Poteva svolazzare sotto il loro naso a suo piacere. Soltanto che aveva nascosto la sua covata lì vicino e voleva proteggerla dai nostri sguardi. Forse, come le pernici, gli indigeni facevano finta di aver paura di noi a causa di qualche terrore più profondo, per noi incomprensibile. O anche, il loro modo di comportarsi poteva essere una specie di strano gioco e quella gente, tanto restia, non aveva affatto paura di noi. I negri hanno molto meno dei bianchi il senso dei pericoli della vita. A volte, durante un safari o persino alla fattoria, in un momento di grande tensione, leggevo, nello sguardo degli indigeni, che per loro la mia paura era incomprensibile, che fra noi c'era un abisso. Forse, pensavo, la vita è il loro elemento naturale, come per noi non potrebbe esserlo mai. Forse sono come i pesci degli abissi, a cui la nostra paura di affogare parrebbe assurda. Possedevano, pensavo, questa sicurezza, questa abilità nel nuoto, perché avevano saputo tramandarsi una nozione che invece già i nostri antenati avevano perso. L'Africa, fra tutti i continenti, insegna questo, che Dio e il diavolo sono uno, la maestà coeterna, non due increati, ma un solo increato. Gli indigeni non dividevano la sostanza, ma non confondevano le persone. I miei rapporti con gli indigeni sono stati sempre semplici e piani, sia durante i safari che alla fattoria. Eravamo buoni amici. Sapevo che non avrei mai potuto conoscerli o capirli completamente, mentre loro mi conoscevano fino in fondo e riuscivano addirittura a prevedere i miei atti e le mie decisioni. Per qualche tempo ebbi una piccola proprietà a Gil Gil, dove vivevo in una tenda facendo la spola col treno da lì alla fattoria. A volte, se cominciava a piovere, decidevo da un momento all'altro di tornare a casa. Ma quando arrivavo a Kikuyu, la nostra stazione ferroviaria distante una quindicina di chilometri dalla fattoria, trovavo sempre qualcuno dei miei servi venuto a prendermi col mulo per accompagnarmi a casa. Se provavo a chiedergli come aveva fatto a sapere del mio arrivo, voltava lo sguardo dall'altra parte infastidito, a disagio, come farebbe uno di noi se un sordo volesse per forza sapere cosa significhi una sinfonia. Quando sapevano di non dover temere movimenti bruschi o rumori improvvisi, erano molto più aperti degli europei. Non ci si poteva fidare di quel che dicevano, ma in un senso più alto erano sinceri. Il buon nome, il prestigio è molto importante nel loro mondo. Quando si sono fatti la loro opinione globale su una persona non la cambiano più. A volte ci si sentiva molto soli alla fattoria. Nella quiete della sera, quando i minuti scivolano ad uno ad uno dall'orologio a muro, sembrava che anche la vita scivolasse via, solo per il bisogno che si aveva di parlare con gente della nostra razza. Ma sempre ho sentito la vita degli indigeni, silenziosa e coperta d'ombra, scorrere parallela alla mia su un piano diverso. Arrivavano echi dall'uno all'altro. Gli indigeni erano l'Africa in corpo e sangue. L'alto vulcano estinto di Longonot, che si erge sulla valle del Rift, i grossi alberi di mimosa lungo i fiumi, l'elefante e la giraffa, non erano vera Africa più di loro, figurette sperdute in uno scenario immenso. Erano espressioni diverse e di un'idea unica, variazioni sullo stesso tema. Non un ammassarsi congeniale di atomi eterogenei, ma un ammassarsi eterogeneo di atomi congeniali, come la foglia di quercia e la ghianda rispetto all'oggetto fatto con legno di quercia. Noi, coi nostri stivali e la nostra eterna fretta, siamo spesso una stonatura nel paesaggio. I negri invece appaiono in perenne armonia con esso. Quando sono in viaggio, alti, snelli, scuri e con gli occhi scuri, sempre in fila indiana, tanto che perfino le grandi vie del traffico indigene non sono altro che viottoli stretti, o quando lavorano la terra, o pascolano le bestie, o fanno le loro grandi danze, o raccontano una fiaba. È l'Africa che è in viaggio, che danza, che racconta. Sugli altipiani tornano in mente le parole del poeta, sempre mi è parso nobile l'indigeno e insulso l'immigrato. La colonia stava cambiando, ed è già cambiata da quando ci vivevo io. Scrivere con tutta la felicità di cui sono capace le mie esperienze in quella terra e con alcuni degli abitanti delle sue pianure e dei suoi boschi può avere una specie di interesse storico.